Alla fine la sveglia riesce a strapparmi al sonno. Ciany è già seduta in fondo all'ampiteatro. Bene, vi restituisco i vostri test. 38 su 40. Hai visto? Non serve a niente essere così stressata. Torno in camera. Ho promesso alla mia compagna in istanza di accompagnarla a un concerto che mi fa impazzire. Ne approfitterò anche io per riposarmi un po'. Ho degli amici che arrivano da un momento all'altro, quindi devo chiederti di andartene. Ok, cerchiamo di trovare un posto tranquillo. Senta signor Zaidi, lei non può interrompere un corso col pretesto di non essere in vena. Mi scusi, io... Beh, ecco, ho come dire... ascoltato la conversazione. Non so che mi ha preso, ma non posso fare finta di... In questo caso, questa conversazione dovrebbe finire qui. Sì, mi dispiace. Le auguro una buona giornata. Quasi quasi andrei a fare un giro in città, tanto per distrarmi un po'. Cerco di chiamare Rosa, non si sa mai. Con un po' di fortuna non è la lezione. Il cellulare si è messo a vibrare nel momento preciso in cui l'ho preso in mano. Pronto? Herkel, sono Clementina. Ah, Clementina, buongiorno. Come sta? Di merda, quindi alza il culo e vieni subito da me. Dove sei? Scusi? Dove tu sei? Devo lasciarti un doppione delle chiavi di bar per il weekend. Io non è malato e non potrei occuparsi del servizio. Ah, beh, ecco. Immagino che tu sia disponibile, visto che non è essere venuta spesso ultimamente. Giusto? Sì, certo. In ogni caso non ha niente di particol... Ma scusami, da quando è che uno decide quando andare a lavoro? Perfetto. Allora sei all'università in questo momento. Non mi hai risposto per chiavi? Sì, sono all'università. Non è molto lontano l'aspetto qui. Oh, non hai intenzione di venire da queste parti, quindi. Perché capisci? Con la gamba che mi fa male. Per di più, oggi ho i tacchi e è tempo di cambiarmi. Insomma, non vorrei farti aspettare troppo. Capisco, no, vengo io. Ero sicura che tu avresti capito. Non serve a niente insistere con lei. Allora ti aspetto. Cerca di non metterci troppo tempo. Non ho neanche avuto il tempo di rispondere. Ho subito messo giù il telefono. Potrei magari approfittare del parco per starmi tranquilla dopo. Eccoti qua. Sarai in grado di occuparti di apertura di bar, della preparazione di bibite, di mettere sedia e tutto il resto, sotto specie di prorocospino rosso. Beh, ecco, non ho ancora visto tutto, ma farò del mio meglio. Parla tra se e se, cercando qualcosa nella borsa. Avrei voluto poter fare diversamente, ma non ho scelta. Non posso mancare il festival dell'erodeo. Non quest'anno. Madonna mia, che cosa raccapricciante. Creepy, raccapricciante. Sai che dici sempre che Yuna ti ricorda un texano? Sì. Ecco perché piace a Clementina. Sono arrivata seconda l'anno scorso, non per... E dire che devo figurarmi di nuova arrivata. Yuna ha perso, ma bah. Ecco le tieni e roto balle, vattene. Ho preso le chiavi con un po' di difficoltà, come se non volessi lasciarmele. E te credo, conoscendoti manco io ti lascerò le chiavi di qualsiasi posto. Bene, su. Chiamerò bar per assicurarmi che tutto vada bene nel weekend. E faresti meglio stare attenta. Presto sparisci, altrimenti cambio idea e andrò tutto per restare. Bene, non si preoccupi Clementina. Però quello che bisogna fare è che tutto andrà bene. Fuoco, fiamme, esplosioni. Dracarys! Dracarys! Hm, dai fila. Mi sono diretta all'uscita, con le chiavi che ti intinnavano allegramente in borsa. Vado al parco a passeggiare. Le chiavi che ti intinano allegramente in borsa sono una novità, considerando che di solito è piena imballata di roba e non c'è spazio per tintinare, però... Almeno qui c'è posto per tutti. Perché ho tutti i tipi. Mi sono seduta a gambe incrociate su una panchina. In tasca al cellulare ha cominciato a vibrare. Ha un messaggio di rosa. Ci provo, non si sa mai. Il mio corso è stato annullato. Non è che sei libera? Le ho subito risposto. Sì, anche io sono libera. Sono al parco. Raggiungimi se ti va. Vengo subito. Ho appena avuto il tempo di giocare un po' col telefonino prima di vedere rosa apparire in fondo al parco. Hai pure delle app per i giochi o il coso. Sembra che non lo usi mai. Salve! Sono contenta. Ho avuto paura di passare l'ora da sola. Salve! Già, non ho trovato un posto tranquillo all'università. Allora solo ho venuta qui. E poi non ci siamo viste dalla sera del concerto. Da quasi una settimana. Una settimana! Così poco che non ti vedo. È stato davvero bello, tra l'altro. Ma non mi ricordo bene la fine della serata. Mi sono svegliata nel mio letto al caldo, completamente vestita. Ah, non ti ricordi la fine della serata, Marrana? Beh, io ne conosco uno che non ha dimenticato di sicuro. Ehi, Castonello! Cosa? Ma cosa stai dicendo? Avevi bevuto un po' troppo. E hai voluto a tutti i costi che parlassimo a Castiel. Cominci a spaventarmi. Non ho nessun ricordo. E? Cosa ho fatto dopo? E gli hai fatto una scenata davanti alla maggior parte delle sue fan. Davvero? Ai, non gli avrà affatto piacere. Ma che te frega, te stavo antipatico. L'hai chiamato Castonello non sa mai di tappo. Urlando in mezzo al bar. E sei nata a dirgli cosa pensi di lui. Cosa penso di lui? Rosa si sta decomponendo davanti ai miei occhi. Ho dovuto tirarti per il braccio. Non volevi andartene. Ma non hai poi durato così tanto. Mi dispiace davvero. Non volevo che andasse così. E adesso che me lo dici, ne ho un ricordo vago. Hai bevuto troppo. Non ci ho mai vista così. Lo so. Mi sono completamente lasciata andare. Mi dispiace. Mi preoccupo soltanto per te. Mi sono sentita così male il giorno dopo. È l'ultima volta che bevo una goccia d'alcol. Non ci cassa nessuno. Questa decisione estrema. Ogni tanto. Ma non è d'obbligo farne un'abitudine. Né un obbligo per divertirsi. Oh! Deo grazia! Scritta nel modo peggiore ma un insegnamento giusto. In effetti da quando sei tornata abbiamo fatto parecchie serate. Ma ti giuro che in tempi normali non è sempre così. Tanto che per un po' la cosa mi aveva reso triste. Ah, visto il tuo stato ti capisco. Ti hanno dato in astinenza. E so che Alex e Morgan mi hanno riaccompagnata. Ma non so com'è andata la loro serata. Hai avuto sue notizie tu? Beh ecco, credo che abbia passato una buona serata. Ne ho la certezza assoluta. Davvero? L'hai visto? Gli hai parlato? Quando parli del diavolo. Non so perché, ma sapevo che vi avrei trovate qui. Bah, non hai nemmeno risposta ai miei messaggi. Pensavo fossi occupato. Sì, a ficcare la lingua in gola a Morgan. Il fatto è che ho lasciato il cellulare nella stanza di Morgan. Quindi aspetta la fine della lezione per recuperarlo. Alexi mi ha fatto un sorriso di intesa. Aspetta, il tuo cellulare è in camera sua. Allora? Beh, ecco, diciamo che il weekend è stato lungo. Ma c'era Iuni in camera. Ti credo che sia malato, ha dormito su una panchina, poveraccio. Allora, siete insieme? Sul serio? Sì, ufficialmente. Ma Alexi confirmed. E beh, dovevano anche provare a smentirla. Ma ci sono libero a sberle. Rosalia si è alzata e si è gettata nelle braccia di Alexi gridando. Yeeeeh! Lo sapevo, lo sapevo! Non è per questo che devi sentirti autorizzata, Rosy. Basta con i tuoi piani. Certo, sì, te lo prometto. Non ci crediamo nemmeno per un attimo. Ecco, è un po' grazie a voi. Perciò mi sono detto che dovevate essere le prime a saperlo. Anche perché sostanzialmente Erkel non sarebbe mai stata zitta dopo quello che ha visto. Alexi non poteva fare a meno di sorridere mentre parlava. Mi fa tanto piacere vederlo così. Anche se ce n'è una che l'ha saputo prima di tutti gli altri. Non è che vi stavate nascondendo, eh? Diciamo, Alec, che vi devi ancora confermare se il banco è comodo oppure no. E mi ha rivolto uno sguardo pieno di sottintesi. Bisogna dire che avete scelto l'anfiteatro. Ci sono luoghi più discreti. Devo ammettere che non siamo andati troppo per il sottile. Ma è a causa di Morgan. Continua a perdersi. Sono stato obbligato di portarlo nell'aula per dimostrargli che aveva torto. E che non era la biblioteca. Aspettate, se ho ben capito Erkel ha visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere. Possiamo dire le cose così, esatto. Ma a me è andato bene di averlo visto. E non mi hai detto niente? Non ho neanche avuto il tempo di tirar fuori l'argomento. Alex è arrivato prima, ce lo stavo per dire. A dire la verità, c'è un'altra persona che l'ha saputa prima di tutti quanti. Forse è quello che avete sbattuto fuori dalla camera. Ah, davvero? Già, Yun è stato costretto a lasciarci la stanza. Non ha dormito dal suo letto da venerdì sera. Quel ragazzo è un tesoro. Così, a partire da stasera, torno in camera mia. Yun come ha fatto? Non perdi la bussola tua. Ma no, non dovevi interpretarla così. Dai. Cosa? No, niente. È solo che ci ha parlato molto di te. Oh, non vedo cosa c'entri con la mia domanda. Ci ha detto di non preoccuparci. Si è arrangiato. Non so altro. Ma non credo che sia andata una ragazza, se la cosa può rassicurarti. No, io ero preoccupata che avesse dormito su una panchina nel parco, Alex. In realtà non mi ero preoccupata, ero solo curioso di saperlo se l'ha fatto. Non ho detto niente. Non hai bisogno di dire altro. Date i numeri voi due, ve lo posso assicurare e ve ne darò la conferma. Comunque abbiamo avuto l'occasione di parlare un po' con lui durante il weekend. E mi piace. Sembra molto legato alla sua famiglia. È un tipo gentile. Al 100% lo confermo. Non lo conosco bene ancora. Tranquilla. Imparerai a conoscerlo. Sembra una minaccia. Quando è che torni al bar? So dove vuoi andare a parare tu. Tutti e due. Mi fermo subito. Saprò sbrigarmi da sola per le mie relazioni personali. E per risponderti? Ci vado il prossimo weekend. Ma io non c'è. È ammalato. È ammalato e per giunta gli abbiamo rubato la stanza. Ai, mi sento in colpa. Il sole comincia a tramontare. Sarebbe ora di tornare. Non abbiamo avuto le informazioni più importanti. Già, hai proprio ragione. Sì, volevo altre informazioni su Alec e Modena. Raccontaci tutto per filo e per segno. Chi ha fatto il primo passo? Cosa ti ha detto? Come hai reagito? Beh, ecco. È successo dopo aver accompagnato Rosa. Yes. Ho raccompagnato Morgan fino alla sua stanza. E al momento di lasciarci, le mie mani si sono perse tra le sue. E mi ha baciato. Io pensavo che le mie mani sono perse su di lui. Esatto. Tipo... È stato come se una corrente elettrica mi attraversasse il corpo. Non siamo riusciti a separarci fino al momento in cui Yun è arrivato davanti alla porta. Bella sorpresa per Yun. E diciamo che ha fatto dietro front. Ci siamo mandati i messaggi tutta la notte. Credo che Yun non sia riuscito a dormire per colpa di Morgan. Così ha deciso di lasciarci la stanza per il weekend. E in seguito non siamo più riusciti a lasciarla. Alexi ha terminato la sua frase a voce bassa. Oh, sono fin troppo felice per voi. È fantastico. E quindi avete... È tutto qui. Dai, andiamo. Alexi si è messo lo zainetto di spalla e ha cominciato a camminare. L'abbiamo seguito per tornare al campus. Ok, vi lascio qui. Vado incontro a Morgan. Quando rifacciamo una serata tutti assieme? Non appena... Sì, giusto. Quando rifacciamo una serata allora? Siamo subbalzate. Nel frattempo Morgan ha messo un braccio intorno alla vita di Alexi dandogli un bacio sulla guancia. Salve, tutto bene dal concerto? Io e Rosa abbiamo tutte e due risposto sorridendo. Ti sei ripresa dalla serata, Rosa? Già, grazie di nuovo di avermi accompagnata. Non ricordo molto. Non è niente. Eravamo solo un po' preoccupati per te. Ehi, ciao, Erkel. L'unica persona ad avere un senso dell'orientamento quasi peggiore del mio. Morgan mi ha fatto l'occhiolina e ho subito capito che si riferiva a quello che era successo il giorno prima. Sono quasi sicura che in questo ambito ancora non ti batto. Quindi è che tu ti parli nelle stanze e ti slinghi con quelli che incontri? Ero appena arrivata e sono comunque riuscita a indicarti la strada, anche se conoscevamo la pena del campus. D'altra parte, sono in debito con te. Grazie di nuovo per questo. Senza di te a quest'ora starei ancora cercando la biblioteca. Morgan si è messo la mano in tasca per cercare qualcosa. Qui si è girato verso Alexi. Tieni, Alexi, il tuo cellulare. Alexi l'ha ringraziato. Ti ha messo in tasca il cellulare. Con questo cellulare, per essere quello che ti ha regalato Armin, lo perdi un po' troppo spesso, eh. Che significa che stasera non dormo con te? Alexi l'ha detto sottovoce, guardandolo negli occhi. Rosa mi ha sorriso. È chiaro che qui facciamo solo la candela, io e lei. No, no, ma consigliate a fare la cera. Ho preferito far finta di niente, occupandomi del telefonino. Morgan gli ha risposto qualcosa, parlandogli all'orecchio. Non ho sentito, ma ho visto Alexi arrossire improvvisamente. Sono così carini. Volevo invitarti al ristorante stasera. Che ne dici? Davvero? Ma certo! Alexi si è messo quasi a saltare, poi ha preso la mano di Morgan. Sperando di avere l'occasione di fare presto una serata al ristorante anche con voi. Sento sempre parlare di voi due, ma ho la voglia di conoscervi meglio. Con molto piacere. Passate una buona serata. Madonna, io non avrei così tanta voglia di conoscerci. Alexi ci ha fatto un ceno di saluto, io e Rosa ci siamo incamminate per tornare al campus. Mi fa davvero piacere vederli insieme così. Mi sembra di aver compiuto qualcosa di importante. E io? Non c'entro niente. Non ho avuto nessun ruolo in questa storia, tipo organizzare un cavolo di party in camera mia. Sei peggio di me in realtà. Anche tu esigi di essere riconosciute. Naturalmente. Bene, ho ancora qualche ricerca da fare in biblioteca per le lezioni domani. Ci vediamo dopo? Sì, a dopo Rosa. Si è allontanata. Bene. Con un po' di fortuna, a quest'ora la festicciola di Yelin con i suoi amici è finita. E posso tornare in camera, almeno per farmi la doccia prima di andare a mangiare qualcosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.